Favola della Roma antica scritta da Fedro. Api e fuchi al tribunale della Vespa. Le api avevano costruito dentro una vecchia quercia i loro favi, ma i fuchi nulla facenti li attribuivano a sé. La questione fu portata in un tribunale con giudice la Vespa. Dato che l'insetto ben conosceva la loro indole, disse loro che, essendo uguali per forme e colori, dovevano prendere delle arnie e fabbricare nei favi del nuovo miele, dal sapore identico al precedente. Solo dal risultato si sarebbe capito chi era il vero autore del miele. I fuchi si rifiutarono, così la Vespa pronunciò il verdetto finale. E' chiaro a tutti, coloro che possono farlo e coloro che non possono. Perciò si è restituito il loro frutto alle api.